... Allora Robert, quest'anno hai scelto per il tuo festival Sundance come unico film italiano I Bacimi Dati di Roberta Torre? Già! Ma come? E Natale in Sudafrica? Oh, fra Barbara! Non mi nascondo che l'indecisione c'è stata fino all'ultimo, poi alla fine ho scelto il film della torre perché la colonna sonora finale, oltre di Erika Mu, era meglio di Waka Waka, direi che si incastrava meglio! Difatti Barbara ha voluto farci una sorpresa e ci canterà oltre di Erika Mu! Grazie a tutti! Grazie a tutti.